ciao a tutti eccoci in questo nuovo video di epio oggi siamo qui in questo nuovo video di di epio per scalare le classifiche se ci riusciamo naturalmente che sono questi mai visti vabbè proviamo cioè facciamo sempre la prima bene quello me lo fai colpire no siamo subito morti e basta già inizia così non mi va bene non lagare bene facciamo sempre questo vai spariamo roba beh qua dobbiamo fare stragi bene vai livello 7 ma dove che roba qua bene questo siamo al livello 8 l'altra volta eravamo arrivati al livello scappa a un livello bello 12 mi sembra bene 9 ora questo grazie fesso già 3 me ne fai mettere beh c'è roba da qualche qua ce n'è un po' non me ne vado da qua fin quanto non distruggo tutti questi quindi questo lagga naturalmente ecco la costa mia mano non si vede niente quindi eh però non so come devo fare con la mano mi serve scappa scappa scappamo scappiamo bene scappiamo da qui siamo morti bene proviamo un'altra modalità giusto così che cos'è oh mio dio conquista questa mi sembra bene bene oh e finalmente ne abbiamo ucciso uno di quelli questi blu invece che so bene vai vai oh il lag mannaggia il lag oh il pentagono vabbè ma questo è fortissimo oh due pentagoni oh due pentagoni bene vai vai bananoni vai 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 spacchiamo tutto dobbiamo vincere sta che non so cosa sia in realtà sta modalità guardate quelli come mamma mia no non morire soprattutto ora bene è quasi livello 12 bene abbiamo raggiunto il record dell'altra volta e ora però non si muore perché si arriva più su oh dio un pentagono no lo dovevo uccidere io quel coso aia bene questo o dobbiamo salire un altro livello per forza altrimenti mi arrabbio no ok scegliamo questo e spacchiamo tutto mamma mia potentissimo spacchiamo il mondo ma do quello pure che bestia che è guardate qua che potenza sta roba mamma mia che bello facciamo le stragi totali e andiamo con il danno facciamo più danno spacchiamo tutto ora vai di qua spacchiamo la roba il pentagono il pentagono muorici pentagono mamma mia andiamo così livello 17 un altro pentagono e prendiamoci il damage qua quello che è è infatti ora l'h oddio ma sul serio bullet damage livello diciamo questo è bellissimo livello vai 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 e distruggiamo tutto ho tolto così tanta roba che non c'è più niente siamo quindi a livello 20 beh andiamo dai russi e spacchiamo tutto prendiamoci sto pentagono vai 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 questo questo bello pure quello o un pentagono e ha dato a lui arrivano i rossi volete morire no fess quello era potentissimo quello era potentissimo e infatti mi ha distrutto bene quindi se vi è piaciuto questo nuovo video di di epio livello 21 mamma mia questo era team boh non lo so vabbè livello 21 sono stato fortissimo quindi se vi è piaciuto questo nuovo video iscrivetevi e lasciate un like ci vediamo ciao a tutti